Buonasera a tutti, siamo numerosi questa sera, molto piacere di salutarvi, di ringraziarvi di essere qui, ma in particolare di dare il benvenuto ai nostri relatori, in particolare al dottor Fausto Biloslavo, che io sono uno specialista nello stoppare i nomi, i miei amici già lo sanno, e al professor Paolo Bellini che oltre ad essere l'introduttore della serata è stato un po' anche l'inventore, perché questa sera ci vediamo su una proposta che ha fatto lui, perché aveva già avuto occasione di incontrare nell'università dove lui insegna a Campobasso il dottor Biloslavo. Prima abbiamo avuto il piacere di cenare insieme, quindi alcune delle cose che ci diciamo questa sera le abbiamo sentite, vi assicuro che la serata sarà molto molto esplosiva appunto, questo era un effetto voluto, a volte abbiamo degli eventi speciali che anche a me meravigliano molto. Ebbene, non voglio rubare altro tempo se non ringraziare e poi ci salutiamo alla fine. Buon ascolto a tutti e soprattutto a voi buon lavoro. La linea della battaglia... Siamo a 800 metri di linea d'aria, ora i carri armati cercano di colpire le posizioni dei ribelli. Siamo a 800 metri di linea d'aria, ora i carri armati cercano di colpire le posizioni a? In getting here... Bene, buonasera, saluto Fausto che ha accettato questo invito. Sono molto contento di averlo qui perché, come è stato detto da Franco, l'avevo conosciuto nella mia università, mi aveva colpito l'aspetto vero delle cose che diceva ai nostri studenti in università. L'aspetto vero del lavoro che fa, della personalità e della dimensione umana che porta nel suo lavoro. Abbiamo introdotto l'occasione di questo incontro, è stata la pubblicazione di questo libro che ci darà molti spunti, però abbiamo chiarito anche con Fausto precedentemente che l'obiettivo è di conoscerlo, e di conoscere tutto quello che ha visto, quello che ha riportato nel suo lavoro di giornalista, di reporter e tutto quello che ha portato un frutto nella sua crescita personale. Le immagini che avete visto sono quelle che io ho girato al Presidente Bernardi quando gli ho detto, secondo me vale la pena di partire con questa cosa perché è fortissima, e mi diceva giustamente Fausto, sono tutte immagini non prese a caso da qualcun altro ma registrate direttamente dai due autori, che sono Fausto Biloslavo e Gian Michalessin, che hanno pubblicato questo libro. Quindi è un'occasione, ripeto, per prendere spunti, anche per dialogare e per conoscere la grandissima e ricchissima esperienza professionale e umana di Fausto Biloslavo. Ve lo presento in maniera molto sintetica. Fausto è nato a Trieste nel 1961, diplomata all'Istituto Nautico, si laurea in Scienze Politiche. La sua carriera professionale si apre nel 1982 come fotografo freelance nella guerra del Libano. È stato inviato di guerra tra le tante, poi bisogna aggiornare, in Jugoslavia, Cecenia, Afghanistan, Iraq e Libia. Attualmente lavora per il giornale. Io ho pensato di ricostruire, andando dalle cose più semplici e più narrabili, quattro momenti della sua esperienza umana e professionale e vorrei porgli delle domande su questo. E partirei dall'aspetto, l'ho intitolato, dall'aspetto più semplice, giovane triestino. Allora, Fausto è nato a Trieste, la prima domanda è come ha iniziato a pensare al mondo, cioè come si è fatto un pensiero facendo la scuola che ha fatto e arrivando poi a prendere certe decisioni che l'han portato nel mondo. Raccontaci un po' della tua formazione. Trieste è la città che amo, insomma, la mia città, ed è una città particolare. È una bella città di mare, quindi spazi lo sguardo all'orizzonte, no? E la mia idea, fin da quando portavo i calzoni corti, era andare oltre a quell'orizzonte, scoprire cosa c'era oltre a quell'orizzonte. Trieste però per tanti anni è stata a un passo dalla cortina di ferro, no? C'era la Jugoslavia di Tito, c'era un confine fatto di reticolato, di torrette, di graniciari, li chiamavamo, i soldati jugoslavi che più che difendere il territorio perché qualcuno non entrasse, dovevano evitare che molti non scappassero. Io sono andato in questo clima. Trieste è stata una città martirizzata dalle tragedie del Novecento. Siamo l'unica città in cui abbiamo due monumenti nazionali dei crimini, dei totalitarismi. La foiba di Basovizza è solo da pochi anni, in realtà si studia nei libri di storia veramente cosa sono state le foibe. La risiera di Sansa, la foiba di Basovizza, dove molti italiani furono scaraventati dentro e uccisi dall'occupazione Titina di Trieste a guerra finita, e la risiera di Sansaba, dove invece molti ebrei, molti partigiani, molti oppositori di allora furono o massacrati o poi diretti verso i campi di sterminio in Germania. E quindi abbiamo sempre vissuto con queste cicatrici della storia, sentendole sulla nostra pelle, perché era sulla pelle delle nostre famiglie, sulla pelle delle famiglie dei nostri amici. Io ho un nonno che non ho mai conosciuto, perché non aveva fatto neanche la seconda guerra mondiale, perché aveva un problema ai polmoni, quindi era quello che girava la manovella per l'allarme aereo, per intenderci, insomma, era rimasto a Trieste durante l'occupazione jugoslava e sono andati a prenderlo perché era un italiano e perché aveva un cognome, che era il cognome anche di un piccolo gerarca fascista locale, che però se ne era data gambe, quindi capitava anche questo. E noi abbiamo vissuto questa storia e siamo nati immersi in questa storia. Ma la verità è che io anche di questa storia ne avevo abbastanza. Volevo un po' anche superare i muri e andare a vedere cosa c'era anche dall'altra parte della barricata. E soprattutto quando portavo i calzoni corti, insomma, come alcuni ragazzi che vedo qui questa sera, al nautico, sfogliavo corto maltese e dicevo ma anch'io vivrò queste avventure, non sarà solo fantasia, non sarà solo un fumetto, insomma. E volevo girare il mondo, volevo girare il mondo, cercare l'avventura, raccontare le guerre. Mi ero innamorato della fotografia ma a me piaceva soprattutto scrivere e magari anche sbarcare il lunario. E così assieme ad altri due pazzi triestini, Gian Michele Sin... Ti blocco. Allora, questa fotografia, spiegacela. Ecco, questi sono i pazzi triestini di cui vi parlavo. A sinistra sono io un po' più giovane, come vedete. A destra Gian Michele Sin ed è una foto storica perché questo dimostra che aveva i capelli. Adesso Gian è completamente pelato. E in mezzo c'è il nostro fratello maggiore, come lo chiamo io, che si chiamava Almerigo Grylls perché è stato il primo giornalista italiano poi purtroppo ucciso su un fronte di guerra in tempo di pace il 19 maggio 1987 dopo il secondo conflitto mondiale in Mozambico mentre filmava uno scontro a fuoco fra i governativi del Frelimo e i ribelli dell'Arenamo. Però questo trio di pazzi triestini si è messo in testa appunto di girare il mondo, di sbarcare il Lunario raccontando quelle guerre che allora, i più giovani fra voi non erano neanche nati, c'era la guerra fredda, venivano chiamate guerre dimenticate, negli angoli più disperati del mondo, dell'Afghanistan, all'Africa, al sud-est asiatico. E ci siamo inventati un'agenzia, un'agenzia di freelance che si chiamava Albatross Press Agency. Freelance non è una parolaccia, ma dato che non avevamo né la possibilità né neanche la capacità in realtà di entrare in un giornale dalla porta d'ingresso principale, ci siamo inventati i freelance perché i freelance erano quelli che lavoravano a contratto, su assignment delle grandi televisioni americane, per esempio che ci hanno mandato in giro per il mondo, poi in Iran, le Filippine, il sud-est asiatico, che ci chiedevano il bang bang, vedete che il bang bang lo filmiamo ancora adesso, il bang bang era andare là dove i fatti accadono in prima linea e filmare in prima linea la guerra. Appunto il freelance lavorava su contratto, ma per partire, io lo ricordo sempre con un sorriso, dovevamo autofinanziarci per il primo reportage. Allora io facevo il giovane posteggiatore, o meglio posteggiatore, alzavo la sbarra di un campeggio a grado e così mi guadagnavo insomma il pane quotidiano, contemporanea studiavo, alzavo la sbarra e studiavo per i primi esami all'università, Gian più terra a terra portava carta igienica ai ristoranti del Friuli Venezia Giulia, invece Almerigo era l'intellettuale, andava a vendere libri a porta a porta. Ma vi garantisco che con questo piccolo gruzzolo iniziale abbiamo fondato questa agenzia e siamo partiti, siamo partiti per l'avventura. E siamo partiti dall'avventura con una canzone che allora arrivò penultima, ultima a Sanremo, era il 1983, una canzone di un signore appunto non assolutamente calcolato allora, idolatrato oggi, che si chiama Vasco Rossi e che aveva appunto cantato a Sanremo una cosa eccezionale, cioè la vita spericolata, voglio una vita spericolata, voglio una vita come nei film, voglio una vita come Steve McQueen. Questa vita ce l'abbiamo avuta insomma, anche più che spericolata. E quindi sei partito, adesso ti faccio vedere un'altra foto della tua giovinezza. Cosa c'entra questo signore con te? Questo signore mi ha salvato la pellaccia, questo signore che si chiamava Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, il picconatore insomma, ecco per chi si ricorda quei tempi, perché questo mestiere che non è un mestiere, è una passione, magari ne parleremo dopo proprio del senso della passione, non è un mestiere facile. È un mestiere fatto di pericoli, fatto di insidie, fatto di privazioni, fatto di difficoltà e talvolta appunto le insidie, le trappole della guerra le paghi sulla tua pelle. Nel 1987, l'anno orribilis, perché Almerigo era stato ucciso in Mozambico, noi avevamo deciso no, ma noi andiamo avanti e abbiamo deciso di andare nella guerra più difficile da coprire, dimenticata di allora, che era la guerra in Afghanistan, dove non c'era la NATO ma l'Armata Rossa, l'Unione Sovietica aveva invaso l'Afghanistan dal 1979 e avevo deciso di andare a cercare da solo un leggendario comandante dei Mujedin di allora che si chiamava Ahmad Shamassud e che poi è diventato anche un amico e che io reputo la prima vittima dell'11 settembre, perché fu ucciso il 9 settembre del 2001, due giorni prima dell'attacco alle Torri Gemelle, proprio perché Massoud, in tutta la sua vita, era riuscito sempre a difendere la sua valle, la valle del Panjshir, nel nord dell'Afghanistan, un 10% del territorio, prima dai sovietici, dopo dai talebani, non aveva mai, non era mai stato sconfitto, non aveva mai piegato la testa, ma purtroppo il 9 settembre 2001 due finti giornalisti, che in realtà erano terroristi di Al-Qaeda, avevano ottenuto un'intervista, alla prima domanda si fecero saltare per aria e ammazzarono Massoud, perché per Mullah Omar e Osama Bin Laden Massoud era, come poi è avvenuto con i suoi mujahidin dell'Alleanza del Nord, era l'unico leader in Afghanistan, rappresentava l'unica parte di Afghanistan non conquistato, da dove poi gli americani avrebbero potuto usare come un trampolino per abbattere il regime talebano, come comunque è avvenuto. Ma dicevo che nel 1987 andavo alla caccia di Massoud facendo 400 chilometri a cavallo e a piedi dal Pakistan fino al nord dell'Afghanistan, superando l'Indukush, il passo di Anjiman, che non dimenticherò mai, ero giovane, ma vi garantisco che a piedi, con poco da mangiare, dopo aver marciato per settimane, passare 7000 metri a piedi, l'ho passato solo grazie al cavallo arabo che avevo, che mi sono aggrappato alla sua coda, e sto cavallo con tutti i miei bagagli, piano piano, né a neve né a ghiacciaio, ha superato il passaggio di Man, per raggiungere Massoud. Poi ho raggiunto Massoud, sono rimasto con lui per tre mesi, grandi battaglie che non dimenticherò mai, non è che capita ogni giorno un assalto alla baionetta di 600 Mujedin contro sette postazioni governative, come la prima guerra mondiale, insomma, e finalmente sono tornato indietro sulla strada del ritorno, una strada molto pericolosa, perché gli altri giornalisti che erano con me sono stati catturati, presi in ostaggio da Lesbislami, che era un partito armato della resistenza fondamentalista, io non volevo farmi catturare, loro però sono stati fortunati, perché dopo 15 giorni sono stati liberati, ho preso un'altra strada, probabilmente ho sbagliato la strada, insomma mi sono trovato in una zona governativa, e da un fortino che pensavo, un fortino tipo Kipling, dei tempi britannici, che pensavo abbandonato, in realtà era una postazione governativa, mi hanno cominciato a sparare addosso, io ho avuto l'intuizione di lanciare il cavallo che corre più dell'uomo, insomma con tutto il mio materiale, tutti i miei rullini fotografici, tutte le cassette della cinepresa, perché quel tempo non c'erano i telefonini, ma c'era la cinepresa, la pellicola con quello che avevo realizzato, e questo anche mi salvò poi la vita, a lanciarlo con questo cavallo, perché il cavallo se ne andasse, insomma e di fatti poi fu ritrovato dai Mugedì, poi arrivò fino a Gian in Italia, ma dicevo a lanciare questo cavallo, e io mi tuffai un canale di irrigazione, non mi vedevano, però sparavano a raffica continuamente, con tutto quello che avevano, quindi praticamente le raffiche polverizzavano gli arbusti, la vegetazione che copriva questo canale, io nuotavo in questo canale sentendo queste raffiche, poi a un certo punto mi fermo in una casa bombardata, e in questa casa bombardata dico, vabbè prendo un attimo fiato, appiattito per terra, per fare l'ultimo scatto, e uscire dalla linea di tiro dei governativi, dietro una curva, insomma si è riuscito dalla linea di tiro, per fortuna che non l'ho fatto sotto certi aspetti, ma a un certo punto ho sentito qualcosa di freddo alla nuca, e ho girato lo sguardo e ho visto la canna di un calashico, un fucile mitragliatore russo, che era imbracciato da un soldato bambino, che non avrà avuto più di 13-14 anni, erano in due, e riusciva a tenere anche malamente l'arma, perché è pesante, e io in tre mesi avevo un po' imparato la lingua, e questi due soldati bambini discutevano fra loro animatamente, avevo, assomigliavo a Mugède, non ero in ottime condizioni, non ero in giacca come qui, e dicevano, guarda che brutto che è, questo è pericoloso, guarda che barba che ha, questo è pericoloso, questo è perché chissà chi è, viene dal Pakistan, e l'altro diceva, ammazziamolo subito, spariamoli, e quell'altro diceva, no, l'ufficiale ci ha ordinato di portarlo indietro, vivo, prigioniero, allora io mi sono intromesso, e gli ho detto, sì, forse il tuo amico ha ragione, io mi arrendo, e mi porti indietro, vivo, prigioniero, e così iniziò, il reportage sulla mia pelle, insomma, sette mesi di galera Kabul, che non erano proprio, insomma, uno zuccherino, e chi mi liberò fu il buon Kossiga, in una maniera un po' particolare, dopo sette mesi, il presidente afgano voleva, noi non riconoscevamo l'Afghanistan, perché c'era, lo dicevamo che era il regime fantoccio dell'Unione Sovietica, insomma, Kossiga doveva scrivere una lettera al presidente afgano, per chiedere la mia liberazione, la prima versione della lettera era in nome di Trieste, perché io ero triestino, e andavo avanti così, insomma, senza mai specificare che era l'Italia che chiedeva la mia liberazione, quando arrivò questa lettera, arrivò il numero tre, che poi diventò il mio amico, anche perché era quello che, l'unico che parlava italiano in Afghanistan, quindi traduceva gli interrogatori, arrivò il numero tre del ministero degli esteri afghano, e il povero incaricato d'affari italiano si trovò con questo funzionario afghano che gli disse no, 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 ma questa lettera non va bene, e prese appunto una matita rossa, insomma, e cominciò a correggere la lettera del capo dello Stato italiano, no, 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 qua non dovete scrivere così, dovete scrivere così, perché se no noi non accetteremo mai di liberare, no, questo non va, Trieste, ma che Trieste, l'Italia, tutto così, c'era questo incaricato d'affari, biancato, che non sapeva cosa fare, e disse, ma io come faccio adesso a rimandare la lettera tutta corretta, poi proprio, tutta, no, 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 rimandare, rimandare, insomma, questo la rimandò, Quirinale per una settimana non rispose, no, oltraggiato da questa, e dopodiché Cossiga copiò pedissequamente il testo dell'afghano che parlava italiano, che aveva corretto la lettera, e io veni liberato, insomma, questa è la storia di Cossiga. cresci e diventi reporter, vorrei riportare alcune dichiarazioni, alcuni articoli, alcune affermazioni che vengono pubblicate su quel libro, perché ci fanno capire, ecco, vorrei fare un approfondimento su che cosa vuol dire fare il reporter. Scusa, prego, mi spingere. Ecco, però vorrei aggiungere un'altra cosa, vorrei aggiungere un'altra cosa su questa esperienza durata sette mesi che è molto lunga, io, nonostante, sono stato frustrato, mi hanno fatto vivere i pidocchi per sette mesi, con una tenuta tipo lager, freddo, l'unica volta che ho detto ma vorrei lavarmi un attimo, mi hanno portato in questa cloaca e c'era i ghiaccioli, non c'era l'acqua, c'era i ghiaccioli, mi sono lavato con i ghiaccioli, ma dico, a parte tutto questo io mi reputo fortunato, fortunato di essere qua questa sera a parlare con voi, a raccontarvi cosa mi è capitato in Afghanistan tanti anni fa, fortunato soprattutto perché i miei compagni di Cella, quelli veri, perché dopo ti mettevano anche la spia, insomma, capivi subito chi era, quelli veri non ci sono più, quelli veri sono stati tutti passati per le armi, gettati nel fosse comuni che poi ho ritrovato quando sono tornato in Afghanistan e soprattutto il primo, Rasul, mi ricordo che quando ci davano una ciotola di riso da mangiare, ogni tanto gli si incastrava la mandibola, restava così, lui dava un colpo e dico ma che è successo? Faccio, ah no, beh, questi sono cazzotti dell'ultimo interrogatorio ma sono tutto a posto, funziona, gli avevano rotto la mandibola. Dopodiché guardo le dita delle mani e dei piedi e vedo che aveva dei segni neri, no? Attra le dita e i piedi e dico ma come cicatrice ma cosa sono? Mi fa no, sai perché quando ci interrogano legano i fili elettrici attorno alle dita e ai mani e ai piedi e poi li collegano a un telefono da campo sovietico, girano la manovella e danno una scossa elettrica, no? Ma in fondo finché questo così me la raccontava come ve la sto raccontando io adesso però insomma finché usano le mani dei piedi delle dita insomma il problema è quando ti collegano i fili elettrici sotto la lingua al lobo delle orecchie o ai genitali là non si riesce a sopportare e allora per questo io mi reputo fortunato fortunato che Cossiga mi ha tirato fuori fortunato che non sono stato torturato come Rasul fortunato di essere qua questa sera a raccontarvi questo reportage vissuto sulla mia pelle dunque fortuna inizio a leggere qualcosa di questo libro ma è una delle tante pagine mi permetto di prendo un po' di spazio ma secondo me ne vale la pena episodio il sindaco di Kabul in uniforme da battaglia appena lanciato l'allarme fame in città alla fine della conferenza stampa esco dal municipio bucarellato dalle schegge di mortaio e mi sbraccio per fermare un taxista che accosta dall'altra parte della strada sto attraversando per raggiungerlo quando un istintivo campanello d'allarme mi fa girare di scatto un bestione a fari spenti punta dritto verso di me forse sarebbe bastato tuffarmi nel taxi giallo in attesa ma la prima reazione è quella di scappare di corsa il camion militare mi insegue e tampona il taxi facendolo volare via come un birillo sento il ruggito del motore che mi rincorre ma la strada è dritta e senza via d'uscita il traffico sembra essersi volatilizzato un posto perfetto per un incidente del genere tutto dura qualche manciata di secondi il primo impatto con il camion assassino mi fa volare in aria una decina di metri più avanti il dolore è talmente improvviso e lancinante che dopo un attimo non sento più niente sto rotolando sull'asfalto quando il mostro di acciaio mi è di nuovo addosso una ruota anteriore passa sopra il mio addome come una pressa sento che le ossa del bacino scricchiolano e si spezzano anche se devo essere finito in un buco della strada provocato da una granata di mortaio che ha tutito il peso del camion mi manca il respiro ma devo reagire altrimenti sono morto la polizia segreta mi scarica all'ospedale sovietico che è appena stato evacuato sto morendo dissanguato quando intravedo l'amico fotografo Mauro Scrobogna che arriva trafelato insieme al delegato della Croce Rossa internazionale in ambulanza a folle velocità mi portano all'ospedale da campo dell'organizzazione umanitaria l'ultimo ricordo è il faccione di un chirurgo americano che urla per tenermi vigile con un filo di voce gli racconto come hanno cercato di farmi fuori non preoccuparti ho fatto esperienze in Vietnam ti salverò sono le ultime parole che ricordo prima di svenire sul zubbotto che indosso intriso di sangue è rimasta l'impronta della ruota del camion e nelle mille tasche da fotografo trovano un rullino schiacciato dalla pressione come una moneta da cento lire dopo tre mesi passati immobilizzato in un letto di ospedale e sei in sedia a rotelle torna a camminare ecco l'ho messo in giallo perché è la cosa che mi lascia esterefatto non vedo l'ora di tornare a ripartire per un nuovo reportage ecco spiegaci questa cosa qualcuno può prendermi un pazzo forse anche ha ragione insomma ma ecco quella volta non sono stato molto fortunato quella volta hanno cercato di farmi fuori c'erano quasi quasi riusciti tra l'altro quando le prime ruote insomma mi hanno schiacciato ma io sono convinto insomma che qualcuno da lassù mi ha fatto cadere in questo questo buco in questo piccolo cratere creato dai granati di mortaio quindi è stato come uno scudo insomma quasi invisibile che mi ha protetto però il peggio arrivava con le ruote dietro del camion e allora ho dato un colpo di reni no e dando quel colpo di reni con le fratture il sangue le lesioni interne del sangue che perdevo non ho neanche più provato dolore perché dicono che quando si arriva al settimo livello del dolore non si può neanche più dolore e la prima cosa che hanno fatto quei simpatici poliziotti della polizia segreta agenti della polizia segreta che guarda caso si sono materializzati immediatamente là così no dal nulla e quando sono arrivati ero avevo tra l'altro le gambe rattrappite non riuscivo neanche di stendere le gambe respiravo pochissimo a malapena non riuscivo a parlare e loro sapevano che io conoscevo la lingua e parlando fra loro dicono ma non è ancora morto no e adesso cosa facciamo no e allora mi hanno caricato così com'ero a forza su questa loro waz questa jeep russa e mi hanno portato all'ospedale sovietico che però era stato evacuato l'avevano fatto apposta per dire morirà dissanguato qua insomma poi per fortuna appunto è arrivato il mio collega eccetera però ecco la morte da quell'esperienza ho capito due cose uno che la morte è sempre una compagna di viaggio di ogni reportage bisogna mettere nel conto che puoi anche non tornare anche se nessun pezzo vale la vita cioè nessun articolo vale la vita quindi il primo obiettivo è riportare l'appello a casa dopodiché mandarlo ai giornali insomma mandare il pezzo al giornale ecco e la morte e la morte ti accompagna perché facciamo un mestiere terribilmente pericoloso insomma se vogliamo farlo bene e non farlo a bordo piscina però da quella da quell'esperienza ho capito anche che la forza della passione per questo mestiere esatto quando mi sono fatto tre mesi al policlinico di Milano immobilizzato completamente a letto poi sei mesi in sedia a rotelle e poi altri sei mesi di durissima riabilitazione ecco io penso di essere ovviamente tutti i medici perché sono sempre simpatici ti dicono beh ma lei non tornerà mai a camminare normalmente sì forse con delle stampelle bastone però si scordi insomma ecco sono ancora qua e faccio il reportage che avete visto ma perché perché quello che mi spingeva era tornare a fare quello che amo cioè quello che è la mia vita raccontare le guerre ma poteva essere qualsiasi altra cosa cioè mi ha spinto proprio idea non l'avranno vinta non mi hanno fermato non resterò su questa sedia a rotelle mi alzerò tornerò a camminare tornerò a fare quello che che facevo prima e così è stato ma questa passione deriva da un momento ben preciso una passione che appunto è diventato un modo di vivere in realtà e questo momento ben preciso l'ho vissuto in Africa all'Equatore in Uganda io dico sempre che ogni giornalista di guerra per essere tale deve arrivare a quella che chiamo la sottile linea rossa e là quando si trova di fronte alla sottile linea rossa capire se è meglio fare un passo indietro e cambiare vita cambiare mestiere oppure superarla e diventare giornalista di guerra a me è capitato in Uganda quando mi sono trovato di fronte a collinette di cadaveri perché una pazza che si chiamava Alice Laquena e che guidava un gruppo di guerriglieri del Lord Resistance Army l'esercito del Signore la notte prima nella foresta aveva aveva fatto un rito voodoo con delle bacche proprio in un pentolone aveva fatto un olio io una di quelle bacche è anche uno dei proiettili di calasci con intrisi di sangue che dimostrano la follia umana ce l'ho in salotto a casa e ogni mattina me lo guardo per capire appunto la follia per non dimenticare la follia umana e dicevo durante la notte con anche un po' l'aiuto della droga e al rullo dei tamburi questa aveva spalmato con quest'olio magico i suoi uomini ma non solo uomini anche donne anche soldati bambini e li aveva convinti che erano immortali il giorno dopo in file tipo Barry Lyndon tipo guerra napoleonica con le armi spianate cantando e marciando cantavano siamo immortali e avanzavano verso le posizioni governative che avevano delle quadrinate antiaeree cioè delle mitralatrici che buttano giù gli aeri le hanno messe ad alzo zero hanno sparato contro queste file di centinaia di persone e li hanno ammazzati tutti fuorché un sopravvissuto che io ho poi incontrato e mi ha raccontato tutta la storia li hanno ammazzati tutti e questa massa in forme sanguinolenta umana era in mezzo alla savana raccolta a mucchietti e io mi sono trovato di fronte a questo orrore e ho capito dopo aver visto mille volte Apocalypse Now e Marlon Brando e il colonnello Kurz che poi semplicemente ripete il cuore di tenebra l'orrore bisogna farsi amico l'orrore e ho capito cos'è l'orrore e mi sono fatto amico l'orrore perché a un certo punto prima il presidente mi chiedeva ma chi te lo fa fare e a quel punto mi sono chiesto ma chi me lo fa fare forse aveva ragione la mamma che mi diceva ma cosa vai in giro per il mondo in cerca di ironie perché non resti qua un bel posto in banca alla posta una roba tranquilla e no io invece sono andato in Uganda a raccontare quella guerra civile e allora di fronte a questa linea d'oro rossa l'ho sorpassata mi sono acceso un sigarillo perché il lezzo della morte soprattutto in Africa l'equatore dolciastro pesante ti penetra nelle narici non ti fa respirare un sigarillo proprio per mascherare questo lezzo ho preso fuori il break note e sono cominciato a prendere appunti la cinepresa la macchina fotografica scattare foto ho trovato il sopravvissuto mi sono fatto raccontare tutta la storia insomma ho fatto quello che dovevo fare il testimone di questo orrore per due giorni per due notti non ho non ho dormito e dopo ho capito che quella sarebbe stata la mia vita insomma quella sarebbe stata la mia passione la mia anche maledetta passione quella sarebbe stato il mio lavoro scusami ti interrompo perché c'è una sono nervoso inquieto in caso di incontro ravvicinato con i soldati birmani non saprei da che parte buttarmi e i loro colpi non suonano molto più lontani di quelli dei Karen dunque siamo molto vicini meno di 800 metri troppo vicini per un attimo la paura mi stringe le budella mi offusco i pensieri che ci faccio qui chi me l'ha fatto fare di venire a raccontare una guerra di cui nessuno sa nulla forse sull'ultima domanda hai già detto qualcosa raccontasi qualcosa sulla paura questo è un passaggio di Gian ma noi abbiamo voluto appositamente mescolare i nostri ricordi perché sono ovviamente simili senza firmare capitolo per capitolo per non far capire chi ha scritto cosa insomma però la paura assieme alla morte è l'altra compagna dei reportage un uomo senza paura è un pazzo Rambo non esiste c'è solo nei film esiste Rambo devi avere paura per sopravvivere perché grazie alla paura se riesci però a controllarla sopravvivi esci dall'inferno e noi l'inferno l'abbiamo visto tante volte negli occhi la paura l'abbiamo vista negli occhi nei nostri occhi negli occhi per esempio anche dei prigionieri che vengono catturati in prima linea e che hanno paura terrore di essere passati per le armi e talvolta è accaduto la paura è quando ti arriva un colpo in mortaio e lo senti arrivare sai che fine potresti fare cioè spiaccicato in mille pezzi ti butti a terra senti la folata del calore della granata che esplode e ti salvi dalle schegge incandescenti perché ti sei buttato a terra per fortuna vicino a un muretto afghano fatto in terra e paglia che viene distrutto dall'esplosione vieni semisepolto ma sei vivo la paura è quando in Kosovo assieme ai guerriglieri e ai UCK prima ancora dell'intervento della Nato penetriamo in Kosovo e finiamo in imboscata in imboscata dei serbi e vedi i proiettili dei traccianti quelli rossi che esplodono ogni tre colpi davanti ai tuoi piedi e cerchi di correre più veloce dei proiettili la paura è come mi è capitato nel primo reportage nei tuoi occhi negli occhi di un soldatino libanese avevo sentito un'esplosione c'era una battaglia automaticamente in braccio la macchina fotografica l'avevo sentita dietro l'angolo e avevo visto una colonna di fumo cerco di andare dietro l'angolo cioè di sporgermi dall'angolo di fotografare mi sbatte contro questo soldatino perché? perché un razzo RPG un razzo contro carro aveva colpito la sua jeep assieme ai suoi comeditoni era l'unico seppur ferito sopravvissuto gli altri erano feriti gravemente o morti la jeep bruciava e io in quel momento scatto una foto lui non si rende conto di chi sono e mi sbatte contro il muro e sta mette il colpo in canna e sta per spararmi per fucilarmi là sul posto non parla urla non parla una lingua di parola straniera allora io avevo una maglietta con scritto in francese in inglese e in arabo don't shoot ne patirei non sparate assedio di beirut 1982 era scritto sul retto da maglietta mi giro di scatto lui legge legge in arabo capisce che sono un giornalista e così mi sono salvato al primo reportage ecco questa questa è la paura anche la pazzia un ragazzone ventenne di colore che spara come un forsennato con il busto fuori dal blindato quando finisce l'ultimo nastro di proiettili si abbassa e urla passami una cassetta di munizioni per un attimo penso che i giornalisti non devono in nessun modo partecipare al conflitto ma il soldato del grande Uno Rosso mi riporta subito alla realtà se non ti sbrighi siamo morti gli passo la cassetta e chiedo al capitano incollato alla radio sul sedile davanti se posso fare una diretta radiofonica con i satellitari l'ufficiale mi guarda come fosse un pazzo e poi risponde ok situazione al limite della razionalità allora intanto voi non dovete partecipare però in questo caso si trattava di salvare la pelle quindi uno strappa la regola ma questo sguardo di un militare che dice ma sei pazzo non vi fa pensare qualcosa soprattutto dopo l'11 settembre i giornalisti sono stati un po' tutti ci siamo messi nel metto insomma non era più possibile andare dall'altra parte della barricata cioè dalla parte degli insorti dei telebani terroristi guerriglieri chiamateli come volete e quindi la scelta obbligata era quella di andare embedded cioè di andare aggregato alle truppe occidentali sul terreno in questo caso ero con gli americani in Iraq ed ero embedded con questa unità l'unità famosissima il grande uno rosso che sbarcò per primo in Normandia su Omaha Beach a Omaha Beach e ci troviamo in una situazione drammatica perché finimmo in una grossa imboscata con gli insorti che avevano mortaio armi pesanti sparavano tutte le parti però in quel momento quando sei sotto il fuoco è verissimo che il giornalista non deve andare in giro armato non deve partecipare al conflitto insomma deve stare un po' al di sopra delle parti ma in quel momento sei una band of brothers cioè sei una banda di fratelli in fondo cioè no come dire sei dentro quel piccolo Amvi corazzato Gippone corazzato in 3-4 persone e sto ragazzino che avrà avuto vent'anni non di più che sparava come un forsannato per salvare se stesso noi e l'intera colonna faceva lo stesso insomma e talvolta ti trovi in queste situazioni estreme e ti trovi in situazioni anche anche peggiori con i miliziani libici a Sirte una delle capitali del califato cosiddetto califato in Libia appunto ho assistito per un mese a questa battaglia feroce senza pietà senza prigionieri seguendo i miliziani di misurata che attaccavano giorno per giorno metro per metro per strappare Sirte all'Isis e la tattica di guerra dei miliziani del califo era resistere fino all'ultimo uomo e soprattutto utilizzare i kamikaze non solo con semplici macchine minate ma erano furgoncini corazzati artigianalmente e mettevano ragazzini anche giovani anche minorenni ragazzini sauditi di 16 anni al volante ovviamente corazzati li legavano al molante li davano un telecomando e dopodiché riempivano tutto il mezzo con proiettili d'artiglieria esplosivo bombole di gas con tutto quello che avevano per trasformarli in bombe umane e ne abbiamo beccati diverse di queste macchie minate ma quella che non dimenticherò mai è stata quando dopo l'ennesima avanzata a Sirte si combattevano da quattro ore per conquistare 250 metri in mezzo alla città e li hanno conquistati e alla fine sono arrivati a questo incrocio e arrivati a questo incrocio cantano vittoria i miliziari misurate e dicono giornalista filmaci che abbiamo vinto Allah o Akbar e come gridano Allah o Akbar sono tutti là per fortuna eravamo in un edificio diroccato sbrecciato ma dentro un edificio come cadono l'Araqbar neanche mi rendo conto li sto filmando e vedo nel mirino della telecamera un bagliore rossastro uno di questi uomini bomba ci era arrivato alle spalle e si era fatto esplodere all'esterno per fortuna c'erano delle protezioni quindi si è fatto esplodere sulle protezioni le protezioni ci hanno salvato molti sono rimasti feriti ma a un certo punto ho sentito questa grande esplosione l'aria che ti investe che ti butta a terra e poi sento qualcosa che mi cade in testa guardo e è un pezzo di ginocchio del kamikaze guardo sopra c'è lo schizzo di sangue di questo pazzo che si era fatto saltare per aria in quel momento mi sono reso conto di nuovo dell'orrore della guerra passiamo alla parte di giudizio sulle cose che vedi l'ho intitolata che succede e ti pongo alcune domande alcune su un fatto tra virgolette profetico no questo è una fotografia emblematica tu hai avuto la possibilità di fare l'ultima intervista di un italiano al colonnello vestito da gelataio vorrei leggere quello che ti ha detto nel 2011 il colonnello Gheddafi nell'ultima intervista a un giornalista italiano alla vigilia dei bombardamenti della Nato pochi mesi prima di venire linciato proprio a Sirte suo ultimo rifugio aveva previsto tutto se io crollo i terroristi prenderanno il sopravvento gli africani si muoveranno in massa verso l'Europa e il Mediterraneo si trasformerà in un mare di caos mi spiegava Gheddafi inascoltato da tutti sotto la sua storica tenda beduina nella roccaforte di Baba a Tripoli aveva previsto tutto noi stiamo vedendo adesso quello che è successo che rispecchia molto delle cose che aveva detto proviamo a dare un giudizio attuale di quello che stiamo vedendo beh abbiamo compiuto il più madornale errore strategico ci siamo dati a zappa sui piedi bombardando il regime di Gheddafi solo che allora io ho fatto tre mesi in Libia durante la rivolta e allora ero fra i pochissimi che nei collegamenti televisivi diceva ma siamo proprio sicuri che vogliamo tirare giù il colonnello e dopo cosa succederà e tutti no ma perché le primavere arabe perché ci eravamo innamorati di queste primavere arabe oh che bello la democrazia arriva come il vento diceva il vento della democrazia come dopo il crollo del muro di Berlino beh le primavere arabe si sono trasformate velocemente in tragico e sanguinoso inverno per tanti paesi a cominciare dalla Libia otto anni dopo la Libia è ancora nel totale caos e non è un dramma solo per i libici che ovviamente è il dramma principale ma è un dramma anche per noi per i nostri interessi nazionali per quello che sta succedendo per i problemi che abbiamo per i flussi migratori e l'abbiamo fatto scientemente cioè bombardando Gheddafi dandoci la zappa sui piedi tirati per la giacchetta dai francesi non siamo stati capaci di dire di no non siamo stati capaci di fermare questa questa follia i libici adesso quelli anche che hanno combattuto quelli che i rivoluzionari molti mi dicono e che ho conosciuto durante la rivolta molti mi dicono si stava meglio quando si stava peggio si stava meglio quando si stava peggio io ho fatto una graphic novel un fumetto sulla Libia che si intitola Libia Caputo e ho concluso con quest'ultima frase con quest'ultimo disegno del vecchio combattente libico che ha combattuto contro Gheddafi che dice si stava meglio quando si stava peggio prima avevamo un solo dittatore era lui Gheddafi adesso ne abbiamo 6 milioni perché chiunque abbia un'arma in pugno pensa di fare una milizia pensa di fare quello che vuole e questa è la situazione della Libia da 8 anni a questa parte cosa succede cosa succede prendo spunto da questa tra virgolette battuta in altri posti al comando del califato a Sirte scopro che la conquista di Roma è lo slogan che va per la maggiore insieme alla pasta italiana piatto preferito dalle truppe giadiste vorrei farti una serie di domande sulla situazione attuale italiana europea e mondiale te le faccio tutte e tu decidi una parola devi dirla su ciascuna però decidi tu quante parole dire cosa succede partiamo di qui cosa succede in Iraq alle nostre truppe cosa succede all'interno del mondo islamico cosa succede ai curdi in Siria cosa succede in Europa cosa succede in Italia tra parentesi a Trento cosa succede a Fausto Biloslavo questa è una dichiarazione futura che riporteremo anche a tua moglie dai un'occhiata beh ecco io mi sono reso conto con i miei occhi della minaccia dello stato islamico trovando a Sirte ma anche nei bunker sotterranei dove trasformati addirittura le gallerie ancora costruite da Saddam Hussein trasformati in campi di addestramento per lo stato islamico e poi bunker durante i bombardamenti a Mosul la capitale del califato trovavo questi graffiti con scritto in arabo arriveremo a Roma cioè non era uno scherzo non era propaganda cioè non era ci siamo inventati mediaticamente sta storiella questi lo scrivevano sulle paletti del loro bunker cioè ci credevano veramente quindi era una grande minaccia non solo per il Medio Oriente ma per tutto il mondo in Iraq una stimana fa dieci giorni fa sono stati feriti cinque incursori cinque incursori italiani e di nuovo mi sono trovato di fronte a quell'infingimento a quell'ipocrisia che ho vissuto in quasi tutte le nostre missioni all'estero le chiamiamo missioni di pace certo nessuno va a fare una guerra per portare l'altra guerra si va a fare una guerra per sperare di portare la pace in Afghanistan non ce l'abbiamo fatta il paese non è ancora uscito da questo lungo tunnel di guerra che dura da 40 anni però noi non abbiamo fatto non abbiamo portato solo caramele dei bambini noi abbiamo combattuto quegli incursori non erano là come ci hanno detto hanno cercato di dirci per fare l'addestramento sembrava quasi vanno a cogliere margherite e saltano per aria erano in supporto ai corpi speciali kurdi hanno individuato assieme ai kurdi un obiettivo cioè una base dell'isis con munizioni armi e anche attrezzatura per fare quelle trappole esplosive su una di queste trappole poi sono saltati per aria hanno perso le gambe e allora io dico sia nei confronti dell'opinione pubblica italiana sia nei confronti di questi soldati che sono stati feriti e porteranno le cicatrici per sempre di quelle ferite sia per i soldati che sono caduti ma sia per quello che è successo in Afghanistan anche dall'altra parte della barricata per i talebani che abbiamo ucciso per gli insorti che abbiamo ucciso nella Siria durante la battaglia dei ponti dove in Italia un ministro io ero là a porta a porta diceva no ma in fondo diceva è un'operazione di polizia quel giorno i soldati italiani avevano sparato centomila colpi in 24 ore un'operazione di polizia allora io ecco mi nervosisce questo infingimento questa ipocrisia non aver coraggio di dire quello che facciamo e lo facciamo legalmente nonostante l'articolo 11 della Costituzione non significa che non possiamo fare la guerra significa che dobbiamo fare a certe condizioni giusto o sbagliato e se è sbagliato se non abbiamo il pelo sullo stomaco di sopportare tutto questo torniamo a casa il mondo islamico ma molti forse pensano che il califato l'isi sia stata una minaccia solo per noi ma l'epopea di questi pazzi che sognavano un califato medievale come ai tempi di Maometto ha scatenato prima di tutto non la guerra contro i cristiani ma la più grande guerra civile all'interno del mondo musulmano fra sunniti e sciti questi sono sunniti le bandiere nere del califo sono sunniti cioè la maggioranza dei musulmani nel mondo che andavano la caccia agli sciti che sono la minoranza e quando li prendevano non facevano prigionieri ai cristiani quando prendono i cristiani in Iraq o in Siria gli davano due possibilità o ti converti tre o ti converti o vai via o ti tagliamo la testa agli sciti non davano nessuna possibilità li tagliamo subito la testa o li ammazzavano con un colpo di proiettile alla nuca e li seppelivano in fosse comuni cioè quindi all'interno nel mondo islamico c'è stata un'enorme guerra civile che non è ancora conclusa e continuerà e seminerà morte e distruzione in Medio Oriente i kurdi in Siria gli abbiamo è una delle vergogne dell'Occidente che io spero saranno ricordate sui libri di storia dopo averli usati come io sono stato mille volte in Siria ho seguito tutte le grandi battaglie Sirte Mosul Raqqa la capitale storica del califato in Siria e chi combatteva Raqqa che abbiamo utilizzato come carne di cannone gli abbiamo detto andate avanti voi perché noi appunto non abbiamo voglia di mandare boots on the ground non abbiamo voglia di mandare i nostri soldati i nostri giovani a morire andate voi con l'aiuto e l'appoggio degli americani e dopodiché dopo che loro hanno liberato sì il loro territorio ma ci hanno liberato anche dalla minaccia dello stato islamico gli abbiamo detto gli americani gli hanno detto grazie e arrivederci e li hanno pugnati le spalle e li hanno lasciato ai loro nemici peggiori i turchi che fanno di tutta l'erba un fascio che pensano tutti i kurdi siano terroristi ma non è così il terrorista era Cialan in galera da tempo con l'ergastro in Turchia in Europa beh io mai avrei pensato negli anni 90 ero abituato a prendere un aereo a partire per tre mesi a trovarmi nella savana angolana o nella giungla filippina o in Afghanistan insomma trovarmi in luoghi esotici a raccontare le guerre mai avevo pensato di prendere la mia polo rossa targata TS e in tre ore ritrovarmi nel assedio di Sarajevo cioè la guerra alle porte di casa e mai avrei pensato anche se tutti si sono dimenticati nel 2014 di seguire la rivolta di Piazza Maidan poi la presa da parte dei russi della Crimea e poi l'inizio della guerra civile nel Donbass nell'est dell'Ucraina forse ce lo siamo dimenticati ma nel cuore dell'Europa in Ucraina c'è ancora una guerra che è solo soppita la tregua non regge ogni giorno si sparano ogni giorno si scambiano proiettili di artiglieria quindi abbiamo ancora la guerra nel 2019 in Europa in Italia a Trento allora beh ecco in egual maniera mai avrei pensato nel 2019 di ritrovarmi negli anni 70 con una macchina temporale a Trento la storia insomma ve la faccio breve ero stato invitato da un gruppo di studenti di sinistra di centrosinistra Ludu di Trento a parlare di Libia no? perché in Libia sono stato mille volte l'ultima volta questa primavera quando è scoppiata l'ultima guerra la battaglia di Tripoli eccetera e a parlare di Libia un po' esprimendo anche le mie opinioni anche le mie critiche nei confronti dell'ONG c'era anche un altro giornalista che dovevamo dibattere appunto dialogare eccetera e un gruppetto per fortuna minoritario di Facinorosi mi hanno impedito di parlare di estrema sinistra perché avevo delle colpe molto gravi quando portavo i calzoni corti prima di decidere di girare il mondo in cerca dell'avventura e facendo report di guerra ero un militante del fronte alla gioventù che magari i più giovani neanche non sanno cosa fosse il fronte cos'è il fronte alla gioventù che era l'organizzazione giovanile del movimento sociale italiano e questa era una grave colpa poi nessuno mi ha chiesto della scelta che ho fatto dopo nel momento in cui ho avuto la prima tessera neanche della giornalista professionista ma la prima che è quella da pubblicista prima di diventi pubblicista poi devi fare tutta una trafia diventi professionista eccetera ho detto bene questa sarà la mia unica tessera per tutta la vita quella del giornalista basta mi avanza non mi occorrono altre e nessuno mi ha chiesto quando sono partito giovanissimo appunto dopo l'esperienza degli anni settanta a destra col fronte gioventù sono partiti e ho detto il mondo è diviso in bianco e nero i buoni da una parte e i cattivi dall'altra il mondo libero arresto e ogni guerra mi rendevo conto che non era così che c'erano mille sfumature di grigio che i buoni e i cattivi non si possono mai dividere solo monicamente da una parte e dall'altra che tutte le guerre hanno buoni e cattivi da una parte e dall'altra e che talvolta quelli che ci raccontano sono i buoni magari sono i cattivi Siria Docet Libia Docet e così via mi ha chiesto questo però fondamentalmente la mia colpa era appunto questa militanza di 17 anni e il filo nero comune che legava insomma fino a oggi perché appunto dovevano trovare un legame era che io nei miei articoli oggi scrivo per il giornale che insomma notoriamente baluardo fascista eccetera eccetera e critico l'ONG giustamente non avevano neanche la possibilità di dire che insulta l'ONG perché non ho mai insultato nessuno quindi critico l'ONG e questa era una colpa tale per cui non potevo parlare ma di un'Italia che io spero che sia solo una piccola enclave insomma ecco che non sia un sistema ma come si è ammesso ma allora purtroppo non è l'unica enclave non è l'unica enclave tu sei un persona universitario in molte università purtroppo ci sono ancora questi che io ho chiamato perché ero invitato proprio a sociologia forse questi ragazzi di sinistra anche loro molto giovani non hanno collegato ma sociologia era la facoltà dove ha studiato Curcio che poi ha fondato le Brigate Rosse insomma forse non era il posto più adatto però io penso spero che siano un enclave e che non sia più un sistema che non sia più che non si possa più effettivamente pensare che sia giusto negare la parola a qualcuno che non la pensa come te di destra o di sinistra però queste enclave ce ne sono non è l'unica non è l'unica e queste enclave sono anche irriducibili perché il rettore mi ha rinvitato a Trento sono tornato a Trento e il risultato è stato che il rettore si è beccato quasi un'ombrellata in testa che questi facevano allora erano 42 di cui 15 del dipartimento di sociologia no 15 universitari gli altri venuti da fuori e 3 del dipartimento di sociologia ma facevano una cagnara tale perché il rettore a torto ragione non ha voluto far intervenire la polizia dentro l'università per cui praticamente abbiamo fatto lo stesso l'incontro sulla Libia ma è stato paradossale è stata una farsa perché questi gridavano spaccavano le porte cercavano di entrare eccetera sempre in nome del fatto che appunto secondo loro io ero fascista i fascisti non hanno diritto a parlare all'università non hanno diritto la parola per sgombrare subito il campo sul discorso fascismo o non fascismo io penso che il fascismo sia morto nel 1945 con Mussolini impiccato a testeggiù a piazzale Loretto io sono nato nel 1961 sono sempre stato abituato a vedere avanti e l'unica etichetta che accetto è quella non di fascista ma di giornalista libero e come giornalista libero io avevo il dovere di parlare anche con tutta la cagnara ed è allucinante che nel 2019 un gruppetto di fascinorosi provi quantomeno e riesca in parte a negare la libertà di parola in Italia Fausto Biloslavo cosa farò da grande? allora da grande continuerò a fare quello che faccio anche se mia moglie santa donna ogni volta che vede qualche mio video reportage per qualche TG e mi vede magari arrancare un po' salire su un tetto dove sparano e dopo fare lo stand up parlare in camera col fiatone mi manda subito un messaggino sul satellitare mi dice hai visto avevi il fiatone è ora è ora di appendere il giubbotto antiproiettile al chiodo e di tirare i remi in barca ma io in realtà insomma finché riuscirò a indossare ancora questo giubbotto continuerò a fare quello che ho fatto per tutta la vita cioè il testimone delle guerre raccontarvi le guerre scusi scusi no no scusi non volevo e devo e devo dire che mia moglie è eccezionale perché porta la croce ma mi ha già conosciuto così d'altro canto vi racconto questo piccolo aneddoto prima dell'11 settembre riuscì a passare un mese con i talebani in Afghanistan fu il reportage più tranquillo di tutti i reportage afghani perché i talebani avevano conquistato tutto il paese corano moschetto comandavano loro io giravo anche di notte a un certo punto arrivo a Kandahar che era proprio il capitale spirituale dei talebani c'era il governatore Kandahar un ex mujahed che si ricordava di me dai tempi dell'unione sovietica che aveva perso una gamba su una mena quindi lo chiamavo gamba di legno perché appunto sta gamba effettivamente di legno e e mi ospita nel suo compound no e mi dice guarda però dormi qua sta qua però mi raccomando oltre a quelle mura vedo queste mura alte reticolate eccetera non andare non fotografare non chiedere niente perché quello è il compound di Osama Bin Laden allora dire una roba del genere a un giornalista in quella maniera è come dire a un lupo in un recinto di agnelli no tu puoi stare qua però non mangiarti neanche un agnello non azzannarlo il mio pensiero per quella settimana era come fotografo la reggia di Osama Bin Laden esco faccio finta di andare a fare un servizio di andare al bazar eccetera e vedo e comincio a vedere all'ingresso aveva questi pinnacoli tipo moschea tipo minareto questi uomini armati davanti tutti i suoi miliziani stranieri tutti mascherati armati fino ai denti una roba foto bellissima allora riesco ad assoldare un anziano afgano che penso ne avrà viste tutte le guerre fino ai tempi di invasione sovietica capisce subito quello che devo fare era uno di quelli che guidava i Risho queste le ape trasformate in taxi allora lui capisce subito passiamo avanti indietro simula un guasto al motore e io da scatto un dieci foto eccetera la reggia e i bilati legge che non esiste più perché come hanno fatto l'11 settembre i B-52 l'hanno resa al suolo allora avevo talmente terrore di essere scoperto che prendo il rullino e apro il giubbotto che avevo proprio insomma lo apro col coltello e mi cuccio il rullino dentro il giubbotto in maniera tale che anche al tatto non si senta quindi così non è il giubbotto e me lo tengo là finisco il reportage dure un mese torno a casa eccetera io ho presente che c'è il rullino eccetera non so perché si torna a casa sempre di notte sempre in ore impossibili eccetera arrivo a casa non eravamo ancora sposati insomma convivevamo nel peccato ma insomma e alle tre di notte stanchissimo butto tutto là lo zaino il giubbotto eccetera lascio tutto là e mi butto a dormire mi sverio il giorno dopo insomma verso le dieci con il rumore della lavatrice dico no no la mia quella c'è Cinzia che è la mia compagna allora e aveva messo tutto a lavare beh pensate che compreso il rullino di di billade ho cercato di recuperarlo ho cercato di svilupparlo bianco candeggina nonostante questo l'ho sposata lo stesso compre bene allora andiamo verso le domande finali allora innanzitutto cosa succede a Fausto Biososlavo oltre a queste cose qui stai anche tentando strade nuove per cui chiederei alla regia di darci una mano perché vorrei far vedere una cosa innovativa che unisce la come dire la perizia professionale di un giornalista con dei nuovi linguaggi ed è una proposta che stai facendo anche alle nuove generazioni se possiamo mandarla abbassiamo le luci magari si abbassiamo anche le luci arriva 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 si alle mie spalle i seguaci del califo hanno appena lanciato due granate di mortaio per cercare di colpire i cararmati dei combattenti libici che avanzano qui a Sirte nell'ultima battaglia un ufficiale fedele a Ghettati vuole portarci dall'altra parte della strada non faccio il tempo a dire che forse bisognerebbe mettersi ancora o a che parte è una gara di vola di colpi ad un metro da me lo vedo fuori in piedi avvalizzato con il guardo sul compatto che si tocca la testa e si è stato colpito le nostre missioni sono attaccare obiettivi prettamente militari lontane da zone abitate nella difesa dei civili libici Sirte roccaforte delle bandiere nere in Libia due kamikaze hanno fatto strage infiltrandosi dietro le linee delle forze libiche che stanno stritolando i seguaci del califo la caccia ai gommoni diretti in Italia gli accordi con le milizie per fermare le partenze siamo nel centro di detenzione di Garian uno dei più grandi della Libia la battaglia di Tripoli in furia fra i governativi e le truppe del generale Haftar raccontasi ecco allora io veramente da piccolo no veramente calzoni corti andavo andavo in edicola forse chi è cappelli bianchi se lo ricorda ad attendere ogni settimana ogni 15 giorni un mitico fumetto che si chiamava supereroica e che era un fumetto in bianco e nero sulla seconda guerra mondiale e beh oltre a 40 anni dopo mai mai avrei pensato di non solo essere l'autore di un fumetto come questo che avete visto che in realtà è giornalismo grafico ma anche il protagonista perché in questa collana che è stata fondata da una casa editrice in Milano e che si chiama Bandiere Nere che riguarda appunto le bandiere nere dell'Isis il giornalista deve essere protagonista ci deve essere qualcuno che è protagonista e che racconta la storia la collana è iniziata con Tony Capuozzo che è un grande amico e un grande giornalista e che ha raccontato la nascita dello stato islamico del califato è continuata con John Michael Essine che ha parlato della Siria e il terzo volume è Libia Caput che avete visto e che racconta questi otto anni di disastro in Libia ma come lo racconta? Lo racconta sì attraverso i disegni attraverso le tavole illustrate basandosi però sui reportage che ho realizzato cioè tutto quello che è contenuto nel libro certo è disegnato è un libro illustrato ma è vero è reale è assolutamente accaduto l'ho assolutamente vissuto in prima persona e ovviamente ho scelto le parti di questo reportage che raccontassero in 50 tavole l'epopea del disastro il caos in cui è sprofondata la Libia in questi otto anni di fatti assieme ai disegni sono mescolate anche le foto che ho scattato che talvolta neanche si distinguono e il giovane disegnatore che si chiama Armando Mirampolà con un ragazzo bravissimo con la penna con la matita insomma non era mai stato in Libia quindi ha disegnato Libia Caput basandosi sugli articoli che avevo scritto sui video che avevo realizzato vedendo attraverso quello che avevo filmato la storia tragica della Libia degli ultimi otto anni e penso che questo progetto di giornalismo grafico sia anche un modo innovativo per avvicinarsi non solo alle persone che hanno la mia età che hanno i capelli bianchi soprattutto per avvicinarsi ai giovani perché magari riesce più semplice sfogliare un fumetto e rendersi conto di una piccola fetta di storia dunque abbiamo le domande più impegnative per cui ti do solo due minuti per ogni domanda parlino anche loro insomma chiedi allora queste domande te le devo fare però ti do pochissimo tempo così te la cavi te la cavi meglio domande finale perché leggo alcune pagine del libro lui si ferma per un attimo voglio dirvi un'ultima cosa voglio dirvi qual è il segreto del nostro successo fino ad oggi nessuno dei miei uomini ha mai sbagliato alcuni sono stati catturati grazie ai mezzi dell'esercito israeliano ma nessuno si è mai tirato indietro nessuno ha mai esitato il segreto dei miei uomini è nella fede solo quella ti dà la forza e la felicità del sacrificio questa frase ti do due minuti è in un paragrafo intitolato a Dio allora domanda la questione della fede che cos'è per te perché lì viene fuori in maniera come un rischio e un pericolo è così ma io sono un peccatore come tutti insomma penso però io credo e devo dire che di fronte a tanto orrore a tante guerre e tanti morti credo ancora di più credo ancora di più ovviamente combatto per il purgatorio insomma ecco cioè come dire non aspiro non aspiro non aspiro ad altro ma penso che purtroppo Dio la parola Dio declinata in Allah eccetera sia stata anche spesso e volentieri usata e strumentalizzata per esempio far saltare per aria quei kamikaze che ci sono hanno cercato di farci saltare per aria appunto a Mosul a Sirte a Raqqa quei giovani che è stato fatto un lavaggio del cervello gli hanno detto che andavano in un paradiso dell'asso ma con le vergini e ci hanno anche creduto e sono e sono morti in questa follia e penso anche che una delle mie più grandi non posso dire soddisfazioni perché non hai soddisfazioni in guerra insomma ma uno dei momenti che non dimenticherò mai è quando a Mosul nella capitale del califato dove Abu Bakr Baghdadi ha fondato il califato e assieme all'esercito iracheno abbiamo liberato una chiesa distrutta usata come base centro di comando dello stato islamico beh io non vado spesso in chiesa in Italia insomma ma in quella chiesa scheggiata dalla battaglia con la battaglia tutta attorno io mi sono inginocchiato a pregare e penso che sia stata la preghia più sentita della mia vita però nessuna guerra è giusta è santa forse qualche conflitto purtroppo è necessario se ti attaccano come l'11 settembre non è che puoi porgere l'altra guancia insomma però nessuna guerra è giusta nessuna guerra è santa seconda domanda dunque qual è la verità chi sono i buoni chi sono i cattivi il mistero diventa ancora più impenetrabile quando la verità ufficiale è scritta dai vincitori o da chi controlla i media il primo caduto di ogni guerra è la verità dichiarò nel 1918 il senatore americano Iran Warren Johnson non aveva torto assolutamente no non aveva torto aveva perfettamente ragione pensate che in Libia appena arrivato i giornali italiani di Mezzomondo ero là da una settimana titolano in prima pagina fosse comuni a Tagiura Tagiura era un soborgo di Tripoli ovviamente dando la colpa Gheddafi che massacrava gli oppositori aveva già scavato le fosse comuni corro a Tagiura corro insomma non era facile muoversi insomma però arrivo a Tagiura vado proprio con la foto che avevano pubblicato i giornali e dico vabbè la troverò insomma a un certo punto vedo una cosa che poteva assomigliare trovo un vecchietto e gli chiedo scusi io sto cercando le fosse comuni questo me guarda e mi fa le fosse comuni ma io sono il custode del cimitero questo è un cimitero avevano spacciato un normale cimitero per le fosse comuni ma grazie ai social grazie al Zagira e all'Arabia le televisioni arabe eccetera era stato trasformato in fosse comuni ed era l'inizio della rivolta non solo la verità la prima vittima di ogni conflitto ma ormai la guerra dell'informazione e della disinformazione è diventata quasi più importante della guerra vera quella combattuta con le armi io direi 50-50 ormai le guerre si vincono anche grazie alla disinformazione e grazie alla disinformazione noi ci siamo fatti coinvolgere in questa foglia libica vado più sul personale alcuni nostri responsabili dell'esercito hanno sostenuto scusate alcuni mostri responsabili dell'eccidio hanno sostenuto durante il processo che erano posseduti da Satana nel massacro di Niarubuie ho visto l'impronta del male assoluto deve essere un'esperienza ecco la linea rossa che varchi allora domanda rispetto a questo che hai visto in varie situazioni pensi ancora che esista un riscatto per questo? sì sempre sempre cioè siamo gli uomini sono totalmente imperfetti insomma ma c'è sempre la possibilità di un riscatto sempre certo il male assoluto che ho visto dal genocidio in Rwanda in pochi mesi 800 mila un milione di morti non lo rivedrò spero spero di non rivederlo spero di non di non raccontarlo però in ogni storia terribile di guerra c'è un filo di speranza in quel massacro di Niarubuie noi come siamo arrivati a svelare questo ecidio che adesso la parrocchia è diventata un monumento nazionale perché avanzando in questa zona dove avevamo trovato un villaggio completamente bruciato ma non c'era nessun corpo abbiamo visto qualcuno qualcosa che si muoveva nella foresta i guerriglieri stavano per spararli io ho detto no un attimo non so chi come mi ha spinto perché non si vedeva niente si vedeva solo qualcuno muovere il villaggio era appena stato bruciato quindi chi aveva bruciato il villaggio era sicuramente là attorno e non so chi o cosa mi ha dato questa così questo input a fermare e tirare giù proprio il braccio dei guerriglieri perché se no avrebbe sparato era un bambino era un bambino l'unico sopravvissuto di quel villaggio era terrorizzato mi sono avvicinato con un po' di biscotti di acqua eccetera sono riuscito a a un certo punto si è lanciato fra le mie braccia insomma a convincerlo che eravamo che non eravamo i cattivi e poi non parlava era muto perché era evidentemente rimasto traumatizzato però a un certo punto ci ha indicato dove andare indicava dove andare noi siamo andati avanti siamo andati avanti per qualche chilometro lui indicava sempre la strada dove andare dove andare insomma e a un certo punto ci siamo trovati di fronte al male assoluto cioè alla parrocchia di Naro Biwye dove tutti tutti della zona dove vai a nasconderti se non hai altre possibilità insomma in chiesa tutti si erano concentrati in quella chiesa sperando di sopravvivere sono entrato nella chiesa il prete era riverso proprio insomma sull'altare aveva questo messale strappato in latino me lo sono portato a casa di nuovo per non dimenticare quella scena ma la scena peggiore era dietro fra la chiesa canonica dove centinaia di persone erano buttate contro il muro e uccisa a colpi di macete o lanciando bombe a mano quindi erano state fatte in mille pezzi e ancora peggio quando sono entrato nella canonica ho trovato avevano portato via tutto completamente non c'era neanche un mobile niente era vuota totalmente vuota ma nel centro della stanza avevano lasciato il corpo di un neonato senza testa avevano portato via la testa per fare dei riti nella foresta però in questo massacro giornalisti ogni tanto servono a qualcosa abbiamo salvato un bambino era quel bambino quel bambino che ci ha portato sul luogo del massacro dove hanno massacrato anche i suoi genitori e l'unico rammarico che ho è che non potevo portarlo con me non sapevo cosa fare insomma ho trovato delle suore missionarie e l'ho consegnato a queste suore e gli ho lasciato il mio pacchetto di sigarillos quelli metallici e con dentro 100 dollari e il mio biglietto da visita con il numero in Italia ho sempre sperato che quel bambino mi chiamasse mi telefonasse non è mai accaduto ma quel bambino è sopravvissuto nonostante il massacro di tutta la sua comunità ci sono due cose personali a metà mattina le bandiere nere danno fiamme a un'altra casa alle nostre spalle sulla grande strada battuta dai cecchini nessuno osa ammetterlo ma in pratica siamo semicircondati continuo a filmare tutto e per la prima volta il pensiero di non riuscire a tornare mi trafigge l'unità del quinto battaglione resiste a stento sparando all'impazzata per i feriti più gravi che si lamentano per il dolore la situazione sta diventando drammatica mia moglie Cinzia e i nostri figli Beatrice mi aspettono a casa devo farcele in qualunque costo ti fermo perché c'è anche questa cosa di Gian bellissima è molto collegata a quella che hai scritto tu e dice sarà successo qualcosa non faccio in tempo a pensarlo che una notifica di Whatsapp illumina lo schermo del mio cellulare apri il messaggio una foto in bianco e nero una cavità scura un testone da et su un corpicino filiforme e quattro sghiribizi che saranno braccia e gambe amore ecco i 24 mm del nostro bambino cerca di tornare e di farlo presto domanda molto personale e sintetica cosa vuol dire partire avendo moglie e figli beh la tua famiglia è in prima linea una prima linea diversa è ovviamente visibile la prima linea qui fra noi ma insomma sono in prima linea anche loro come tutte le famiglie dei nostri militari all'estero dei giornalisti che fanno questo mestiere insomma e accettano questa prima linea perché ti vogliono bene perché insomma perché mia moglie mi ha trovato già così pacchetto completo insomma io gli ho detto guarda io l'unica cosa che ti chiedo chiedimi qualsiasi cosa ma io continuerò a fare questo lavoro in cambio la lascio andare a ballare perché ama merenghe eccetera balli sudamericani però insomma l'ha capito porta la croce e io penso che abbiamo bisogno appunto anche della famiglia per farci sempre ricordare che il primo obiettivo è tornare a casa il secondo è quello di mandare il pezzo al giornale l'ultimissima perché mi piace troppo sempre legata a questo mia moglie comincia a dire che è l'ora di appendere il giubbotto antiproiettile ma non riesco a stare lontano dalle guerre i reportaggi in prima linea sono la mia vita e continuo ad essere fatalmente attratto da questa maledetta passione però ogni volta che torno a casa da un nuovo conflitto prendo il treno che passa lungo la costiera con le rocce carsiche a picco sul mare e guardando fuori dal finestrino lo splendido panorama del golfo di Trieste mi rendo conto di quanto siamo dannatamente fortunati a vivere in pace io penso che questi 35 anni di guerra raccontati sempre dalla prima linea mi abbiano fatto capire come non avrei potuto capire in un'altra maniera il vero senso della vita e la vera fortuna che abbiamo di vivere in pace appunto quando arrivo voglio sempre prendere il treno quando arrivo su quel treno mi tornano alla mente davanti al golfo di Trieste i momenti più drammatici dei reportage e quei momenti più drammatici mi fanno capire e lo trasmetto anche a voi ci fanno capire quanto siamo drattamente fortunati a vivere in pace quindi teniamocela stretta questa pace perché io ho visto paesi dove pensavano di vivere in pace tranquillamente che da un momento all'altro sono esplosi quindi teniamoci stretta questa pace e quello che ho sempre cercato di fare è trasmettere non solo un reportage ma trasmettere il senso della guerra che poi è solo uno quello di capire che la guerra è una follia ma è anche purtroppo fa parte di noi ma in queste situazioni così difficili così drammatiche così pericolosi io vi garantisco che ho ritrovato forse ho capito il senso vero della vita e l'importanza anche delle piccole cose cioè di tornare a casa svegliarsi la mattina trovare la tua famiglia fare colazione assieme ed essere felice grazie 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 per la conferma di sincerità e di serietà nel lavoro che fai e nell'uomo che sei presidente mi associo anch'io ai ringraziamenti una serata bellissima mi porta a casa questa frase che hai detto di fronte dopo tutti questi morti sento ancora di più il bisogno di credere è una domanda che mi porto con me e ti ringrazio per averla detta grazie a voi tutti ci diamo un appuntamento molto importante che è il 5 di dicembre 5 di dicembre facciamo gli auguri alla città con un grande concerto il concerto numero 3 di Rachmaninoff al Teatro Manzoni alle ore 21 il pianista Pietro Beltrani e l'orchestra senza spine ci offriranno questa bellissima bellissima serata introdurla il maestro Roberto Ravaioli buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti